Abbiamo cambiato qualcosa nelle prime posizioni perché al numero 4 troviamo North Boy con la sua la 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 Posizione numero 3, già, Punk, quindi è sceso di una posizione Sì, perché, attenzione, e poi si sono invertito ulteriormente perché al numero 2 in questo momento, visto che è in tempo reale e noi la stiamo seguendo insieme a voi Al numero 2 c'è Robin Thicke con Blurred Lines, quindi al numero 1 C'è Marco Carta Sì, c'è Marco Carta con Fammi Entrare Viaggi alle 4 Allora, chiusa adesso quella che è la classifica ufficiale di A-Juice Ricordiamo